Hey la ragazzi, ciao a tutti, tra i nick e bentornati qua su TF Simulator Ragazzi, riprendiamo con la storia Allora, dobbiamo andare a casa Mo' è fattibile, i soldi ce li ho, quindi Dobbiamo soltanto... che cos'è che dovevo fare? Hacker il tablet, sì, però manca una cosa Cos'è che mancava? Ah, strumenti per hacking, mo' li posso comprare I soldi ce li ho Allora, 5500, c'ho 7200, quindi Boom, fatto Mo' possiamo hackerare il tablet Vabbè, questo veramente non è un tablet Hacker il tablet Ah, aspetta Ah, quel tablet, giusto, vero è? Che c'entra questo Però vabbè, aspetta, fammi capire come funziona sto coso Ah, è per sbloccare i telefoni? Seleziona Oh, che cacchio è sta roba Ah Ah, devo andare verso l'uscita Oh, mamma Ah Ok Più o meno Credo che ho capito qualcosa Oh, cavolo Qui non ci siamo Aspetta, così Accidenti Ah, ci vorrà un po', raga Ce l'ho fatta? No, sì Ok Uh, ho capito, ho capito come funziona Ah, quindi ho sbloccato il telefono Mo' devo sbloccare Eh beh, devo sbloccare il tablet Quindi si fa da qua Giustamente Allora, qua c'è l'uscita No Sì e no Aspetta Credo che così ce la facciamo Ah, hai visto? Ho capito Ok, Winnie Deppu, fatto Ok, Winnie At this rate Will be done with you in no time Now Send me the tablet on Black Bay Black Bay Allora, diamogli questo tablet Black Bay Tablet Ah, elettronica qua Tablet Boom, via Ok, ma Winnie Che devo fa? You know They buy car parts on Black Bay, right? But you gotta skill up If you want something to sell Imparabilità furto d'auto livello 1 Oh, si passa al furto d'auto, raga Mi sento così Ehm, non lo so Insomma, sto imparando un mestiere Che mestiere Ah, ma allora Furto d'auto Io sto imparando un mestiere, raga Veramente Ce l'ho? Furto d'auto livello 1 Oh, siamo fortunati Il punto livello ce l'ho Ok, fatto Ok, nuovo tutorial Metti in moto un'auto senza chiave Ehm, ok Si possono mettere in moto senza chiave anche auto vecchie Innanzitutto controlla le parti elettroniche sotto il volante E poi devi collegare i due spinotti giusto con un cavo Aha Boh, ci proviamo Allora, casa numero 104 Sappiamo qualcosa sulla casa 104? Accidenti Ehm, c'è un problema Uno è sempre in casa Vabbè, camera da letto Ehm, no, aspetta Qui sta in garage Ehm, questo è un problema Camera da letto Allora, dalle 12 Questo sta in camera da letto Quindi dovrei avere un 4 orette 4 minuti insomma Per rubare la macchina Ah, ma è già fuori Vero, eh Che pirla Oh, è già fuori No, è che da mezzogiorno La tipa sta In stanza da letto L'ho dimenticato Piano Senza fare troppo rumore Questo l'ho già rubato Sì Ok, allora La tipa dorme Per un paio di ore Quindi abbiamo un po' di tempo Poi quella se ne va in garage Quindi Dobbiamo Oh, questa non l'ho mai rubata Eh, ma Qui come si apre Scusa? Cioè Non è che posso uscire così Ho bisogno Di capire come si fa Boh Ah, qua è Però passa la gente Grimaldello elettrico Ci vuole Accidenti Questa cosa non la sapevo Sì, sì, sì Via, via, via Ci vuole il grimaldello elettrico Raga Che cacchio è il grimaldello elettrico Quindi dobbiamo andare a capire Mo' che è il grimaldello elettrico Vabbè, è facile comunque Rubare la macchina Il problema è che Ma anche il grimaldello elettrico Non potevo rompere il finestrino Penso che la tipa mi beccava Cioè, esiste un altro grimaldello Non bastava i 50.000 grimaldelli Che ho già con me Ce ne vuole un altro Grimaldello elettrico Beh, i soldi penso che ce li ho A meno che non costi 20 milioni di dollari E di fatti 8.000 euro 8.000 euro costa Mannaggia Lo fanno apposta Laptop di hacker 52.000 Che ci hanno messo in sto laptop Vabbè Quindi stiamo un po' messi così Così dobbiamo continuare a rubare Dove vado a rubare A proposito A proposito A proposito Vediamo le commissioni Magari Perché quelle pagano Allora Casa 101 103 Alla casa 103 Ci stanno due lavoretti Che ci fanno guadagnare 800 dollari Ruba la lampada Rompi il lavandino Gira Gira La casa numero 103 Speriamo che qui Non dà fastidio Cavolo eh Signor Piano Accidenti Ah ma questi ci hanno Tutto chiuso Vero eh Cosa? Non posso entrare Ah Oh aspetta Mi posso arrampicare Magari sopra Hanno messo Arrampichiamoci un po' Ecco Magari sopra raga Magari possiamo entrare Da qua sopra Ok Traffico che blocca Ma dai la macchina Non l'avevo messa Bene Ah c'è un cornuto Con la macchina Io pensavo che Non passavo Oh Mi sa che tra poco Scatta l'allarme Piamo sta cosa qua E te pareva La polizia sta cercando la tua auto Ah ma vatti cacchi tua no? Andamo va La polizia sta cercando la tua auto Vabbè comunque Oh cavolo Dai e dai e dai e dai e dai e dai e dai Prima di lui Prima di lui Prima di lui Prima di lui Prima Vai 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 Urca Giusto in tempo Accisua Mannaggia Eh lo so Solo 10 punta esperienza Welcome back Eh oh Allora Oh beh 1200 euro per sto telefono Bene Speriamo che la lampada non valeva chissà che Speriamo Allora beh io comunque sia Il lavoretto me lo so fatto Meglio di niente Rompi i bicchieri da vino nella casa 101 Eh potrei fare Aspetta ma la casa 101 Mia no La casa 101 è quella più difficile di tutte Oh La casa 101 È tosta È quella lì col sistema di allarme La casa 101 è quella col sistema di allarme Però aspetta Rompi i bicchieri da vino Sì ma effettivamente conviene tornare nella casa 101 Perché era ben equipaggiata Aveva tante belle cose la casa 101 Ci siamo stati pochi in quella casa Quasi quasi ci torniamo nella casa 101 Non c'è nessuno dalle 21 in poi E allora dormiamo fino alle 21 raga Allora la casa 101 La macchina la metto qua raga Stavolta non mi romperanno le scatole magari Qui penso che non mi romperanno Casa 101 Teoricamente non c'è nessuno Quindi Dobbiamo togliere la corrente Ok Mo che non c'è la corrente E non c'è neanche molta gente in giro Riusciamo ad entrare Questa serratura l'ho sempre odiata Veloce Bene Teoricamente Teoricamente è una cavolata Ma raga abbiamo un po' di tempo Allora speriamo che nessuno mi nota Oh c'è un'altra bella cassaforte qua Dai e Bene Ok Dai Ok ci siamo quasi Bene E beh Oh Bello 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 Buono 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 Questo mi da Ma non vale un cavolo Lasciamolo Uh Sta macchina C'ha il sistema d'allarme Beh che tanto non le posso toccare A prescindere Pirra Meglio stare attenti Non mi piace sta macchina Mi puzza di fregatura Meglio se ci sto lontano Sta macchina Mi puzza troppo di fregatura Lasciamola sta Uh console Quanto vale Manco c'è scritto Beh la pigliamo e basta No questo vale poco Questo vale una schifezza Dai c'ho Cavolo Due minuti Ok Pigliamo solo cose di valore Vanno Non devo fare le pirlate Non devo rubarle cavolate Sì ma qui non c'è un cavolo Andiamo nella stanza sopra va Aspetta c'è ancora un obiettivo di missione Qua sopra Che devo rompere Che devo rompere Dai che questo paga bene Dov'è 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 Che cacchio Rompi bicchieri da vino Questi? Ok Questa l'avevo già scassinata prima Chitarra elettrica Però chissà Magari ci hanno messo altre cose buone Oh no È fallito Accidenti No Non ce la famo col tempo Raga Svigniamocela Trenta secondi Sono pochi Peccato 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 Dov'è la macchina? Peccato C'ero quasi Stavo per aprire Quella cassaforma Forte Via via Non so se scatta l'allarme Non so se scatta l'allarme Alla fine dei secondi Quindi me ne voglio andare Prima che scade Che scade il tempo Così almeno L'allarme non scatta Oh bene 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 Buono Comunque dai è andata bene Comunque abbiamo preso Roba buona Almeno mi dà un bel po' Di punti esperienza Un botto Di punti esperienza Più di mille Sti cavoli Ho rubato poca roba Ma ho fatto più di un livello Ragazzi Dovrei tornare in quella casa Paga veramente bene Ci sta roba veramente buona In quella casa Affitta ladro No Vediamo se c'è qualcosa Che posso vendere Ma non c'è mai in cavolo No niente Mazza quanto va la roba qua Registratore di cassa antico Devo stare attento Ci stanno cose Che valgono un mucchio Di soldi Però non so dove le trovo Eh C'ho due belle collane Mo da qui tiro fuori Un bel po' Di soldini Dai Bene Andiamo a vendere Andiamo al banco Al banco dei pegni O banco dei pugni Qualcuno lo chiama banco dei pugni Welcome back Welcome Oh la console vale 1100 Ammazza A voi ho fatto più di 2000 Oh abbiamo 8000 euro Forse ce la faccio a comprare Quella roba lì Che mi serviva Casa Forse riusciamo a comprare Quella roba che mi serviva Ragazzi Vediamo un po' Quanto costava Era proprio 8000 Grimaldello elettrico Vai Mo ce l'abbiamo Allora Che Allora Casa 104 Qual era l'orario Che l'ho dimenticato Camera da letto Bagno Beh praticamente Si ci andiamo Sembra a mezzogiorno Qua teoricamente Non dà fastidio Che ci vuole Ragazzi Una cavolata Entrare qua dentro E dai Perché l'ha chiusa Così forte Tolta e pirla Sto tizio Magari c'erano soldi Teoricamente Ce l'ho un po' di tempo Per dare un'occhiata Non è che non ce l'ho Potrei rubarla qualcosa Ma perché apri così Velocemente Comunque Comunque Sono punti esperienza Dai Uh soldi So comunque Punti esperienza Chissà se potevo Caricarlo In sta macchina Al quadro Allora Pare che non passa Nessuno Dormi Dormi Mazzano Ne fa rumore Sto coso Ne fa proprio Il rumore Sto coso Beh Sto schiacciando Interagisci Non succede niente Cacchio succede Non mi dire che Oh alle volte Mi si è bloccata la tastiera Proprio mo E te pareva Mi si stacca la tastiera Quando non deve Eccola la Mo che devo fare Qua io non ci capisco niente Beh pareva difficile Via Prima che si accorgono Che è sparita la macchina E il bello è che la tastiera Non mi si è staccava Da chissà quanto tempo E che c'ho Praticamente L'hub Non è che funziona Tanto bene Beh comunque ce l'ho fatta Quanto meno Dai Oh Altri punti esperienza Che vuoi vinnere Ora sei pronti Per il vero Deale Tu guardi questo E tu sarai un ufficio E tu sarai un ufficio Abbiamo lasciato una bocca Per la tua gate Poi c'è la macchina Ha avuto da smontare Raga Devo smontare la macchina La casa 104 La casa 104 Raga praticamente Deve essere una zona nuova Perché io Tutte le case che conosco Erano col 100 Quindi magari Questa deve essere Una zona nuova Vabbè raga Comunque per ora Mi fermo qui Dai spero che questo gameplay Vi sia piaciuto Mi raccomando come sempre Commentate Iscrivetevi Lasciate un bel pollicione in su Ci becchiamo presto Ciao alla prossima